allora vuoi o di questo sabato 6 luglio 2019 e terzo raduno ufficiale dei bucaioli agliana alla festa della birra amici miei noi si avvierà con lo spettacolo alle 22 circa ma la cucina apre alle 20 dalle venti in poi potrete anche mangiare se volete il tavolo a sedere riposta sedere prenotare ha dimenticato ingresso gratuito e a ufo quindi non si spende nulla grazie a tutti